Duccio Canestrini No, volevamo sapere questa cosa della buona educazione, no? Anche Fabio prima diceva sulle piccole grandi cose Sì, ci sono piccole cose che si possono risolvere facilmente Però ovunque così o magari in posti differenti Altri posti del mondo Ah beh, non c'è dubbio, nel senso che l'educazione è comunque un codice culturale Per cui il paese che vai, l'usanza che trovi, ciò che è educato, ritenuto e appropriato Socialmente accettato qui da noi oggi Magari non lo era in passato o non lo è altrove Ma sui fondamentali forse però siamo tutti d'accordo Sì, ecco, forse ci sono proprio dei fondamentali Nel senso che per esempio noi siamo animali sociali Quindi essere ospitati, per esempio i codici dell'ospitalità sono molto interessanti Perché prevedono una sorta di protocollo Che cambia a secondo delle epoche Però voglio dire, per esempio fare irruzione in una casa altrui Senza essere invitati a entrare, sedersi Senza aspettare l'invito Queste cose è abbastanza universale Diciamo la violazione dello spazio personale e familiare Senta, una domanda Ma l'educazione, vabbè, vuol dire educati male Chi ci doveva educare magari l'ha fatto male Ma secondo lei è anche qualcosa che abbiamo nel DNA Cioè uno è già nato portato per essere maleducato E' proprio l'ambiente che ci circonda No, non credo, no Io sono più per la teoria che nasciamo abbastanza tabule rase Poi alla fine è un 50% il corredo cromosomico che abbiamo Ma l'educazione fa tantissimo Io credo che i problemi più grossi nascano dal fatto che Siamo sostanzialmente scimmie superiori Che hanno invaso tutto il pianeta Siamo tantissimi, no? E quindi questa cosa della prossimità obbligata A stare proprio uno accanto all'altro E comincia a stressarci tanto Col caldo poi E quindi ne derivano anche comportamenti degenerativi Per essere educati, chiamiamoli così Io volevo chiedere in conclusione Visto che ti occupi di scienze del turismo In vacanza Ci sono, insomma, gli errori più grandi Le maleducazioni più grandi Invece su che cosa si potrebbe fare meglio In conclusione è drammatico perché si apre un capitolone Io vent'anni fa ho scritto un libro che si chiama Turistario Che era una specie di stupiario dei comportamenti turistici Quindi, però, voglio dire La vacanza Beh, alla fine una vacanza è come è nella vita quotidiana, no? Certo Quindi se è maleducato o poco relazionale Con il verduraio lo è anche sulla spiaggia Contegno, diciamo, un minimo di contenio Senza urlare in ordini ai bambini Che tutti sono obbligati ad ascoltare È vero Quindi ci sono però delle maleducazioni dell'ultima ora? C'è una maleducazione dell'ultima ora Credo di sì Nel senso che questa relazionalità di cui parlavo Sia trasferita nel mondo della tecnologia I telefonini in treno Per cortesia Parlate piano Mamma mia Nelle orecchie gli appuntamenti non mi interessa E poi c'è l'etichetta C'è il protocollo, l'etichetta in internet Con le mail Ringraziare, presentarsi, dire chi si è Spesso viene saltata tutta, diciamo E' saltata tutto a piepare Grazie tante Grazie a Duccio Canestrini Ciao Grazie molte, dobbiamo dire Sì più gentile Fabio Giusto per essere educati Cordiali saluti Cordiali saluti E alla prossima E tante belle cose